Sarà un ponte dell'Immacolata carico di turisti alle terme, questo almeno stando alle prenotazioni che gli alberghi del comparto termale stanno registrando in questi giorni. Molte le occasioni di svago messe in scena anche grazie all'amministrazione comunale che stanno presentando i cartelloni di eventi. Resta però la polemica sulla qualità del turismo da qualcuno definito mordi e fuggi che non lascia significativi riscontri sul territorio. Per il sindaco di Montegrotto Terme la soluzione è fare rete con tutte le realtà che sul territorio operano. Ho sentito un po' queste lamentele per il soggiorno di pochi giorni. In realtà è un trend che continua da diversi anni, il soggiorno medio è di 3,2-3,3 notti. Cosa bisogna fare per aumentare questo soggiorno medio? Bisogna ampliare il ventaglio dell'offerta turistica. Ecco che quindi oltre alle Terme abbiamo un territorio che è quello dei Colli Ugani che è sempre più attrezzato per accogliere i turisti e per fare in modo che la vacanza che attualmente è di tre giorni possa estendersi 4, 5, 6 giorni. Tornare i fasti di una volta serve, per tornare i fasti di una volta serve programmazione e serve dare delle alternative esperenziali ai nuovi turisti.